Ciao a tutti, eccoci qua Andrea Unger e Francesco Placci. Ciao ragazzi. Siamo qui per presentare un po' quello che è successo al lato trading nell'anno 2022. In particolare parlerò appunto di come sono andati i sistemi sui future e Francesco pure ci mostrerà qualcosa e poi lui farà vedere anche qualcos'altro. Non è stato un anno facile, le performance lo dimostrano. Tra l'altro ho sentito che anche parecchi altri trader hanno avuto diversi momenti in cui hanno sofferto, insomma i mercati abbastanza disordinati hanno in qualche maniera dato fastidio ai sistemi che si comportano un po' su norma, fra virgolette, dei mercati. Non so se tu Francesco hai avuto la stessa impressione. Sì, anch'io ho sentito diversi trader, in prima persona ho sperimentato un anno abbastanza difficile e sappiamo poi anche un po' tutti che quando il driver dei mercati, cioè il Mini SP500, fa fatica e in drawdown un po' ne risentono diversi sistemi. Questa è la mia opinione, quindi non so se sei d'accordo. Tanto vale far vedere subito l'equity line di quello che è successo e analizzare quello che insomma è andato bene, è andato male, diciamo così. Ciao, per un'altra unger, per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico. Lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico quattro volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Parto con quelle che sono le mie performance, delle quali non mi vergogno, ma ovviamente che non sono eccelse, soprattutto se vedete la linea blu-azzurra in alto, l'equity line del conto, era anche tutto sommato ad agosto andata benone, diciamo così, stavo vicino al 24%, poi dopo ho avuto una discesa brutta fino a fine anno, con due mesi in particolare, sofferenza, settembre, novembre, invece ottobre e dicembre abbastanza neutri, una discesa che ha rovinato un po' tutto l'anno e fortuna vuole che ancora comunque abbia chiuso in positivo. L'unica consolazione, se vogliamo trovarne una, è che comunque i benchmark, sotto vedete gli americani, il resto del mondo e tutto il mondo a livello azionario, benchmark più classici, ecco quelli sono stati ben peggio di quello che sono riuscito a fare. Ho voluto analizzare, in particolare, i momenti di difficoltà, vedere se c'era, ecco vedete qua, nel giugno 2022, il mese peggiore dell'anno, si nota come il future mix di sistemi sul future della benzina sia quello che in pratica abbia preso le scopole più forti, aveva un 4,1% solo lui ha perso, però è in buona compagnia, fra virgolette, con il crude oil e litting oil, quindi altri del comparto energetico, anche in ultimo c'è il natural gas che però è scollegato dagli altri, quindi è più una coincidenza secondo me la presenza del natural gas in questa classifica e anche una difficoltà non indifferente da parte del mini SP500 che tra l'altro ha parecchi sistemi e quindi ha reagito piuttosto male in quel mese. Poi dopo vedrete alla fine di tutto che in realtà la benzina, che qui ha fatto veramente schifo, è poi quello che ha tenuto in piedi l'anno, però andiamo avanti con calma, qui settembre, l'altro mese di difficoltà, meno di giugno, qui è stato il mini SP che è scoppiato, non il mini SP ma il mix di sistemi sul mini SP, hanno reagito proprio male alle condizioni su cui si basano e ancora una volta c'è anche la benzina che sembra, insomma, che sia il future peggiora dell'anno a quanto pare. Si è aggiunto il mercato dei bond in questo caso, ovviamente qua ho messo i peggiori, poi ci sono anche quelli che hanno guadagnato, che sennò avrei perso un sacco di soldi, però in genere guardo quelli che vanno male per capire se c'è qualcosa in particolare da osservare che possa mettere un carpanello d'allarme e via dicendo. E poi il Kansas Week l'ho messo per dovere di cronaca perché era al quarto posto della classifica per i peggiori, però ho un solo sistema e la voa Titan, il software che usiamo per decidere quali sistemi utilizzare ogni mese, l'aveva inserito, però quel mese ha fatto cilecca, insomma ha perso, non tantissimo, però sempre attorno all'1%. A novembre, ecco, non è peggiorato, ma è capo della classifica il bond trendennale, che ha vissuto un anno difficile tutto e per tutto, abbiamo visto un anno in cui si sono invertite fra il rete le correlazioni tra l'azionario e l'obbligazionario, di solito vanno abbastanza incontrottendenti, a quest'anno invece sono andati assieme, diciamo, nella discesa tra inflazione e mercato azionario instabile, insomma è successo quello che è successo. Il crude oil è lì a ridosso e poi è comparso il feeder cattle, su cui ho qualche sistema, che comunque in genere si comporta benino, quest'anno non è stato granché e il gold pure da rimarcare ha perso qualcosa in questo mese. Se guardo però tutto l'anno, io qui ho messo a questo punto anche quelli che hanno guadagnato ovviamente, è evidente che il mercato che ha guadagnato di più sul mio conto è proprio la benzina, quella che va perso tantissimo a giugno e poi si era comportata male anche a Stembre. Ora la benzina di giugno usciva da una fase di, vuol dire, ipercomprato se lo guardiamo dal punto di vista del movimento di mercato in quanto tale, però in realtà i sistemi avevano, visto che poi vedete quella performance totale di fin anno, guadagnato tantissimo, ed erano una specie di esagerazione, quindi quel ritracciamento pesante anche che c'è stato a giugno ce lo si poteva quasi aspettare, purtroppo non si sa mai quando, se no bastava spegnere i sistemi. Sto comunque investigando sul fenomeno, sto investigando sul fenomeno quando un mercato mostra un movimento esagerato e la benzina l'ha fatto per tutte le vicende macroeconomiche che conosciamo, geopolitiche e via dicendo, di inizio anno, ha fatto un movimento sicuramente esagerato, ne hanno beneficiato i sistemi trend following che hanno cavalcato, in quel caso l'ondata rialzista, però poi è arrivato un momento in cui il mercato era come disorientato dal troppo che aveva fatto e ha cominciato ad andare un po' allo sbando e questo sbando si è tradotto in quella perdita grossa che avete visto a giugno. Pian piano poi si è riallineato col suo comportamento. A settembre ha sofferto ancora per conto suo, quello più un episodio isolato, però nel complesso, negli altri mesi si è comportato sempre bene. Quindi studierò più a fondo, ho già coinvolto anche Francesco, lo sa benissimo, il fenomeno di capire se c'è un punto in cui sia più conveniente filtrare l'operatività del sistema quando il mercato abbia esagerato qualcosa e il qualcosa e il come misurarlo, visto che noi cerchiamo di misurare tutto per avere delle risponsi numerici, è tutto ancora da scoprire. Però insomma, magari l'anno prossimo vi racconterò e ne trarremo tutti i benefici. Al secondo posto i soybeans, la soia che è un mercato, posso dirvi che da gli ultimi tre anni circa, ha appreso a comportarsi molto bene, nel senso che risponde molto bene alle sue logiche standard di movimento e quindi è stato, non una sorpresa, è stato una costante piacevole nel corso dell'anno e sono soddisfatto di avere diversi sistemi e penso di aggiungerne altri, non perché adesso va bene, ma semplicemente perché c'è ancora parecchio da scoprire soprattutto lato bias, stagionalità su questo mercato. Il live cattle, mercato un po' estraneo alle dinamiche di correlazione dei tutti i mercati, diciamo così, il bestiale questo, vivo e live, e ha fatto un buon 2,8%, sistemi che sono mossi bene, diciamo così, contrariamente al suo cugino, lo vedete in fondo la classifica, proprio in basso, il meno peggio dei peggiori, il feeder cattle, quindi non è che fosse un periodo buono o cattivo per le carni, semplicemente i sistemi sul live cattle hanno funzionato bene, quelli sul feeder cattle invece hanno zoppicato. Invece tornando ai vincitori, l'euro-dollaro è tornato prepotentemente alla ribalta, ha avuto diversi anni un po' bui, diciamo così, nel senso che per tanti anni ho notato una risposta mediocre ai sistemi classici. Vi ricordo che l'euro ha funzionato molto bene, con logiche anche abbastanza banali di trend following, fino a circa il 2011, poi Francesco magari dirà la sua su questo, se lui ha un'impressione diversa, dopodiché ha cominciato a trotolarsi su se stesso, è calata la volatilità, le dinamiche che funzionavano bene e prima non ha cominciato a funzionare più nella stessa maniera e addirittura ha assunto comportamenti min-reverting di medio termine in certi momenti. Quest'anno i sistemi hanno ripreso a funzionare molto bene anche quelli classici trend following, anche perché abbiamo visto la discesa che ha fatto, chiaramente accompagnarla con dei sistemi che entravano in posizione non poteva dare un beneficio al conto. Il Bund europeo ha fatto bene, questo grazie al fatto che nei sistemi che avevamo programmato non avevo dei meccanemi di ingresso soltanto long. Ho fatto lato long, però lato short, avevo dei trigger short, ha funzionato tutto molto bene, è come se è mosso, è abbastanza chiaro il motivo, però devo dire che è stata premiata la scelta di tenere degli ingressi short che pure non performassero bene, erano anonimi, fra virgolette, negli anni nello storico, ma hanno tenuto a posto per questi momenti qui, dicendo prima o poi scenderà e infatti poi c'è stata la discesa e quel tipo di setup ha funzionato. Lato negativo, pessimo anno per il trentennale americano, i sistemi che ho hanno sofferto veramente, un po' perché si basavano su una volatilità diversa da quella che c'è stata, un po' perché hanno un bias rialzista di fondo, per quanto anche loro abbiano posizioni short, non sono bastate a bilanciare. Insomma, un disastro, un disastro di un anno in cui i bond effettivamente hanno lavorato male proprio a livello macroeconomico. Ci sono, si accompagnano malamente heating oil e crude oil, la sorpresa è un po' il crude oil, che non ha beneficiato dei grossi movimenti che ci sono stati, anzi ne ha sofferto. Si è trovato un po' travolto dagli eventi, direi così, nei miei sistemi. Mi pare che non è mai riuscito, sì qualche mese positivo l'ha fatto, però non è mai riuscito a rialzare la testa in maniera debita. Però qui il colpevole sono io, secondo me, perché sono rimasto fedele, fra virgolette, a sistemi un po' forse obsoleti o vecchi, che per quanto producessero quello che dovevano produrre, non sono stati capaci di stare al passo quei tempi quando c'è stato un anno burrascoso come quello attuale. La benzina ha caprimeggiato a sistemi più giovani, non perché l'ho fatti dopo essendo pigro prima, ma semplicemente perché la benzina ha cominciato ad essere interessante negli ultimi anni grazie all'aumento di volume, che è ancora basso però prima era abbastanza ingestibile, adesso invece si può lavorare bene. Poi il gold è andato male e questo so che accomuna diversi trader con cui ho parlato, purtroppo ha risposto male un po' a tutto, però ultimamente alterna spesso anni buoni ad anni cattivi, quindi mi aspetto un 2023 positivo con il mix di sistemi comunque abbastanza variegato che ho. Mines e P500 ha sofferto non poco e questo non mi stupisce, non mi fa piacere ovviamente, ma non mi stupisce considerato il casino a livello mondiale che c'è stato, e quindi che ha accompagnato ovviamente i movimenti dei mercati azionari, riflette l'economia americana in qualche maniera e i dubbi, le incertezze che ci sono state a livello mondiale, un po' per tutto l'anno, ovviamente hanno fatto soffrire i movimenti di questo mercato. Fidercat l'aveva già detto, quindi insomma non mi dilungo oltre, è un mercato scollegato da tutto il resto, ha fatto quello che ha fatto, è andato male, ma è lì insomma. Diciamo che nel complesso, questo è il totale, ovviamente poi la somma era in positivo, erano tanti altri mercati che hanno fatto quello che dovevano fare, e seppure misura minore di quello che vedete qui. Allora, più o meno quello che c'era a dire, l'ho detto, diciamo che buona parte del risultato che non mi fa estremamente piacere, pur non lasciandomi in mutante, diciamo così, è dovuto al crude oil e al gold, che costituiscono comunque una parte importante del portafoglio dei sistemi che ho, anche a livello di data dei sistemi di sviluppo, da sempre, ma l'ho accompagnato dal 2010 circa, no? E che hanno fallito abbastanza. Il mini SP pure, che però lo giustifico, diciamo, il mini SP ha fatto male perché difficilmente avrebbe potuto far bene, poi magari qualcuno con sistemi sviluppati apposta per queste condizioni di mercato ha fatto bene, è stato bravissimo in questo caso, nel mio caso, insomma, il mix non ha fatto molto bene. E adesso Francesco dovrebbe farvi vedere quello che ha fatto lui, ve lo commenterà. Ancora una volta il malefico Franz, vedrete che ha fatto più del sottoscritto, però voglio dire una cosa, eh? Franz è più giovane, nonostante la barba, e quindi ovviamente è più esposto al rischio di natura, e poi, se non sbaglio, il conto su cui faccio trading io è più capitalizzato di quello di Francesco, quindi personalmente adotto anche apposta un profilo di rischio minore per vedere una crescita più lenta del conto, quindi non è che lui è più bravo, è bravissimo, però diciamo che dai, no perché voglio fare una figuraccia a fine anno, non ne posso più, dai, vai vai Francesco. No, ti volevo chiedere, Andrea, per curiosità, perché sappiamo che il mini SP 500, ovviamente tra tutti i vari sottostanti con cui fare trading sistematico è uno dei più stabili negli anni. Ti era capitato altri anni di chi da un anno negativo sul mini SP? Sì, è il 2018. Sembrava che era preparata la domanda, invece no, ma non me lo ricordo, perché il 2018 è stato un anno veramente balordo al massimo per il mini SP, e aveva avuto due fasi brutte, a febbraio e aprile, o meglio, a febbraio ha avuto lo shock del mercato, mi ricordo, il primo di febbraio, poi dopo si era ripreso bene a marzo, insomma da aprile in poi è uscito veramente male da quel periodo, e tutto quello che avevo non funzionava per un bel po', e l'anno era stato chiuso in quel caso non bene, non ricordo adesso le cifre, ma mi ricordo semplicemente che quell'anno mi ha fatto soffrire, poi i numeri non me ne ricordo. Meno 15 negli ultimi tre mesi dell'anno, mi pare. Sì, lo ricordo anch'io. Ok, a questo punto veniamo un attimo alla mia presentazione, parliamo del conto future, dopo avremo modo di vedere anche le criptovalute, abbiamo ovviamente in blu l'andamento dell'equity line del conto, in verde come benchmark ho preso soltanto il 1.100 e 500, che dire, questi sono i risultati, quindi un 16.54, sebbene non siano eclatanti, io sono contento perché, insomma guardando l'andamento dei mercati, sappiamo che il 1.100 e 500 è un po' il driver mondiale, ok, quindi vedremo dopo anche quanto influisca su mercati che si possono considerare decorrellati, come le criptovalute, un anno da meno 20%, comunque è stato un anno positivo, ha avuto le sue difficoltà, perché vediamo soprattutto nella prima metà dell'anno dei brutti drawdown, che fortunatamente sono stati ripresi dal mix di strategie, sul quale sono intervenuto comunque durante l'anno. Come dicevo con Andrea, il miglior stimolo per me è per studiare, permettermi a sviluppare nuove strategie, proprio quando le cose vanno male, magari tendo un po' a sedermi sugli allori quando tutto va bene, poi però quando le cose iniziano a non girare per il verso giusto, è sicuramente il momento migliore in cui mi rimbocco alle maniche, cerco di mettere su qualche cosa di nuovo, quindi ho sviluppato qualche sistema nuovo che mi ha dato soddisfazione, soprattutto ho cercato di andare su commodity, perché in una fase di mercato come quella che abbiamo vissuto, con i mercati bond azioni che crollavano correlati, come già diceva Andrea, ho pensato che spostarsi su commodity potesse essere la soluzione più interessante e tra tutti i vari sottostanti sicuramente il caffè è uno di quelli che mi ha aiutato parecchio. A livello di drawdown abbiamo visto comunque dei drawdown importanti, un 16% paragonato al ritorno, comunque devo dirmi soddisfatto di un anno del genere. I maggiori problemi che ho vissuto sono legati soprattutto ad alcuni sistemi sul 1.6500, questo è un sistema storico sviluppato mi pare agosto, forse dicembre 2017, che adesso non vediamo la parte precedente di Equity Line, è veramente molto regolare in auto sempre negli anni e a inizio del 2022 ha avuto un brutto drawdown, non è l'unico, era giusto un esempio per farvi vedere un po' quello che è successo sul 1.6500, è stato comune a diversi sistemi, peraltro poi si è ripreso pure il trading system però chiaramente sono dovuto intervenire con l'introduzione di nuovi sistemi su diverse asset classiche. Passiamo adesso all'e-crypto invece, tanti di voi mi hanno chiesto ma com'è andata sulle-crypto, com'è andata sulle-crypto, non è stato un anno esaltante neanche sulle-crypto, nonostante comunque il portafoglio è più simpositivo, che per me è un grande successo considerando il drawdown del Bitcoin che al momento direi che siamo oltre il 60% da inizio anno, quindi quali sono le considerazioni da fare? Ancora una volta i trading system rispetto alla strategia buy and hold, già avevamo visto l'anno scorso comunque una saura performance rispetto al benchmark, anche quest'anno il mix di strategie sulle criptovalute è riuscito a battere il benchmark, segno che è vero, in certi momenti di mercato il buy and hold sulle-crypto soprattutto è imbattibile, soprattutto quando sono quelle sparate forti, però sul medio-lungo periodo riesce a produrre dell'equity line più regolari, sicuramente riesce a ridurre in maniera sensibile il drawdown, drawdown che è stato del quasi 20%, 19,50%, con una performance del 5,50%. Tra le varie strategie le strategie che utilizzo sono principalmente strategie di breakout intraday, quindi non ho trading system che stanno in posizione veramente tanto, la maggior parte dei sistemi dopo una giornata chiude, è andato tutto a meraviglia fino agosto, un po' come ad Andrea sui future, poi ad agosto è successo qualcosa di particolare, hanno smesso di funzionare diversi sistemi e la spiegazione che mi sono data e di un duplice tipo. Da un lato è abbastanza evidente anche guardando il grafico come ci sia stata una mancanza di direzionalità sul mercato perché praticamente abbiamo un lungo periodo in cui il mercato è stato in orizzontale. È chiaro che lavorando in breakout se non ci sono dei movimenti direzionali si fa fatica a guadagnare. Non solo, anche la volatilità del mercato sembra essere diminuita e questo è un altro aspetto che volendo si può ricollegare un po' quello che diceva Andrea prima sul Forex. Io ricordo tanti anni fa prima del 2010 il mercato Forex è un mercato che era anche abbastanza pimpante e ultimamente se togliamo quest'anno dove sicuramente ci sono stati i movimenti degni di nota si è un po' afflosciato diciamo, ha perso un po' di sprint. Ecco, quello che è successo nella seconda metà dell'anno sulle criptovalute è un po' questo, hanno perso un po' di sprint, non che non ci siano stati movimenti importanti, ci sono stati lo stesso, ma rispetto alla volatilità mostrata in precedenza sicuramente abbiamo visto una diminuzione di direzionalità e di volatilità. Con queste premesse è chiaro che i sistemi di breakout non possono fare bene, fanno fatica. Oltretutto è stato un anno particolare sul mercato delle cripto, abbiamo visto la debacle di Terra Luna, abbiamo visto il fallimento di FTX, quindi con tutte queste premesse non posso che dirmi soddisfatto del portafoglio di trading system che comunque nonostante le performance non eclatanti è riuscito a battere abbondantemente il benchmark e a produrre un risultato comunque positivo nell'anno. Ah, un'altra cosa interessante che ho notato sul mercato delle cripto è la sensibilità alle news, mi riferisco alle news macroeconomiche, cioè se fino a un anno fa, sei mesi fa questa questa influenza macroeconomica della finanza tradizionale sulle cripto non si vedeva più di tanto, negli ultimi sei mesi ho subito un paio di giornate veramente brutte e soprattutto in occasione della release della decisione sui tassi della Fed e questo mi ha fatto pensare e alla fine la decisione è stata quella di sospendere cose che non avevo mai fatto prima sospendere il trading sulle criptovalute peraltro solo in occasione della release di dati macroeconomici di una certa importanza il che mi ha fatto saltare peraltro qualche brutto trade nelle occorrenze successive ma in parte la frittata era già fatta segno che comunque anche questo mercato per quanto possa essere considerato un mercato decorrelato dalla finanza tradizionale così decorrelato alla fin dei conti non è particolare buona parte del crollo di questo mercato ritengo che sia attribuibile anche alla politica restrittiva sui tassi della Fed che ha drenato liquidità dei mercati e ha drenato liquidità anche dal mercato delle criptovalute di qui ovviamente la grossa discesa del bitcoin e del mercato in generale per il 2023 ho buone speranze nel senso che non sono dell'idea che sia un mercato finito come magari un po' è successo per il forex anzi ho l'idea che possa ripartire magari non subito forse nell'ultima metà dell'anno avvicinandosi peraltro l'alvin del bitcoin che di solito crea i presupposti per un bull market penso che possa fare bene sicuramente meglio rispetto a quest'anno vediamo vedremo l'anno prossimo se i fatti ci daranno ragione ok sì ecco ora vi racconto la verità sul conto di Francesco noi proiettiamo il portfolio analyst lo specchietto di interatti di broker dove i benchmark inseribili sono quelli alcuni etf che si possono scegliere il vero benchmark suo Andrea Unger però non può mettere il conto di Andrea Unger dentro ma se voi ci avete fatto caso la mia prima metà dell'anno era buona altro che minesempi lui ha visto quello e si è messa a lavorare ha aggiunto i sistemi sulle commodities nel portafoglio Titan per poi fare un buon fine anno questo però parte di le battute è molto interessante perché si vede una cosa che se noi avessimo lavorato assieme cosa che non facciamo a livello di conti personali ovviamente avremmo bilanciato molto bene tutto l'anno perché io ho avuto come vedete una prima buona fase a parte il giugno fino a fine agosto è andato tutto bene poi gli ultimi mesi sono stati male sicuramente invece Francesco sulla sua equity line ecco vedete qua la seconda parte dell'anno è eccezionale se si sovrapponessero le due equity line avremmo ottenuto un risultato sicuramente più interessante a livello di andamento generale comunque questo vuol dire che la diversificazione come vi hai sempre detto sicuramente paga Francesco ha detto di aver aggiunto al portafoglio sistemi che aveva da parte ma che non aveva considerato fino a quel momento i caffè non lo considero neanch'io semplicemente per un'abitudine mentale a non pensare di voler sottoscrivere un mercato in più quando mi sembra davvero abbastanza su tutti quelli che ho già perché il caffè gira sul circuito ICI che ha dei costi aggiuntivi e quindi non è che sia proprio tiger che ho io però mi scoccia pagare qualcosa per qualcosa che non ritenevo necessario evidentemente mi sbagliavo e Francesco invece più di manica larga è stato avveduto e ha messo in uso quello che aveva da parte con notevole successo ad ogni modo questo è quello che è stato diciamo così e a questo punto ci rivediamo fra un anno e spero con equity line più crescenti di quelle che si sono viste adesso e spero ma lo dico da anni ma non funziona mai di essere più bravo di Francesco a meno una volta farò carichini ecco l'unica soluzione che ho l'unica speranza grazie ragazzi ci vediamo l'anno prossimo grazie a tutti ci vediamo ciao 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 grazie a tutti